Ciao a tutti, io sono Elena e oggi voglio parlare di una bellissima pianta per acquari d'acqua dolce, la Sagittaria subulata. È una pianta verde, nastriforme, resistente, adatta a molti acquari. La consiglio anche ai neofiti. Proviene dall'America centro-settentrionale, spesso viene utilizzata per ricreare dei pratini di facile gestione e crescita, ma consiglio di utilizzarla con questo scopo soltanto in acquari di alto litraggio. Come sappiamo, tantissime piante da pratino necessitano di un'intensa luce e di un'erogazione di CO2. La Sagittaria subulata non ha bisogno di un'erogazione di CO2 obbligatoria. Io l'ho inserita in due miei acquari, nel mio GUE Rio 180 senza CO2 e nel mio GUE Rio 240 con la CO2. La crescita è totalmente diversa, in quello senza CO2 è molto più lenta e non diventa molto fitta, mentre nel Rio 240 diventa un vero e proprio pratino pieno, anche se non troppo basso. Ovviamente dovete valutare il risultato che più vi piace e che volete ottenere, ma è possibile coltivarla in entrambi i casi. Questa pianta ha bisogno di una luce medio-alta, sicuramente con una luce intensa, crescerà meglio e resterà anche più bassa. Infatti, in base alle condizioni in cui si trova, può diventare più o meno alta. Solitamente resta sui 5-15 cm e la luce svolge un ruolo fondamentale per l'altezza della pianta. Infatti, se ci dovesse essere poca luce, possono addirittura raggiungere i 40 cm di altezza e fuoriuscire dalla vasca. In quel caso potrebbero anche fiorire. Consiglio di posizionarla in primo piano all'interno della vasca, ha una crescita medio-veloce, ovviamente questo dipende anche se c'è un'erogazione di CO2 oppure no. Il range di temperatura ideale va dai 20 gradi ai 30 gradi. Il pH deve stare tra 5.5 e 8, solitamente a un prezzo attorno ai 4-12 euro. È una pianta che va interrata nel fondo, principalmente si nutre attraverso le radici, quindi è meglio inserire un fondo fertile, anche se con una buona fertilizzazione liquida a colonna, è possibile non inserirlo. Ha bisogno di ferro? Un chiaro segnale di mancanza di ferro sono le foglie ingiallite. Si riproduce tramite stoloni, proprio come la ballisneria. E a proposito di ballisneria, vi ricordo che ho registrato la scheda tecnica su questa meravigliosa pianta, che trovate su questo canale YouTube. Quindi se non l'avete visto, mi raccomando, andatelo a vedere. In effetti la sagittaria subulata sembra quasi una ballisneria in miniatura. Le nuove piantine saranno collegate le une dalle altre, quindi per potarle andrà tagliata la connessione tra le due. Vi consiglio di non tagliare le foglie perché potrebbero rovinarsi e riempirsi di alghe. Se questa pianta riesce a formare un fitto pratino, è un ottimo nascondiglio per i piccoli pesci, soprattutto quelli da fondo, ma anche per dei pesci timidi come ad esempio i pangio. E anche sui pangio ovviamente trovate la scheda tecnica. E voi? Possedete questa pianta? Fatemelo sapere con un commentino qui sotto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi a questo canale YouTube e attivate la campanella. Seguitemi anche sul mio Instagram, acquariuntrettinobasso, stardust, e sul mio canale Telegram. Io vi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!